Nuova settimana, nuovo appuntamento con i nostri consigli di lettura. Siamo nella libreria Padre Pio a pochi metri dal santuario di Santa Maria delle Grazie anche questa settimana per proporvi alcuni titoli e andare ad arricchire la vostra libreria o biblioteca personale o di casa. Come sempre partiamo con un libro edizioni Padre Pio da Pietrelcina firmato da un confratello di Padre Pio che fisicamente non è più tra noi e però rimane davvero indimenticato e indimenticabile. Stiamo parlando di Fra Paolo Comino per tanti e tanti anni accanto al santo di Pietrelcina e per tanti anni abbiamo avuto anche la possibilità, chi ha frequentato il convento, di incontrarlo nel confessionale o in sacrestia. Ricordi e testimonianze. In questo libro che sicuramente in passato abbiamo già presentato sono riportate storie, aneddoti, testimonianze raccolte con grande attenzione, meticolosità da Fra Paolo Covino riportate in questo libro che, come certe volte mi piace sottolineare, potete decidere di leggere dalla prima all'ultima pagina oppure aprire il libro a caso e scegliere una storia, un aneddoto, perché sono molto brevi ma incisive. Ne scelgo per voi una pagina 245 intitolata Voci Argentine. Racconta Fra Paolo Covino. Basilio Fiorentino, mio amico d'infanzia, il 23 dicembre del 1985 mi raccontò questi due episodi. Nell'inverno del 1935, trovandosi nel convento di San Giovanni Rotondo a riparare un guasto all'impianto elettrico, si sentì dire da Padre Pio Basì, quando avrai finito, vieni nella mia stanza a riparare l'interruttore che sta vicino al letto. Finito il lavoro, l'elettricista si portò nella stanza del padre. Pioveva dirotto e faceva freddo. Riparato l'interruttore a forma di pera, Padre Pio gli disse Il tempo è cattivo, siediti, parliamo un po', e cominciò a parlare di Dio. Inaspettatamente, nella stanza si udirono canti dolcissimi, con voci argentine come di angeli. Chi è? Chi è che canta così bene? domandò Basilio. In convento e in chiesa non c'erano ragazzi, né esistevano apparecchi radiofonici. Il padre non rispose e per distrarlo aprì la finestra. Dovette però chiuderla subito perché fuori era tempesta. Basilio chiese se si trattasse di un fatto straordinario, ma il padre non proferì parola neppure questa volta. E poi l'altro episodio si riferisce a domenica 15 settembre 1968, una settimana prima della morte di Padre Pio. Basilio Fiorentino racconta a Fra Paolo Covino che mentre si trovava in chiesa ad ascoltare la Santa Messa Domenicale, mancò la luce. Ad un tratto alzò gli occhi verso il matroneo e vide Padre Pio avvolto in una luce splendente. Questa testimonianza, questo ricordo, questa storia, insieme a tante altre, e sono veramente molte, le potete trovare in questo libro. Sono esattamente, ve lo dico così per curiosità, sono quasi 150 storie riportate in questo libro diviso in due parti, quindi ci sarà davvero un piacere leggerlo. Il libro è questo, Ricordi e testimonianze, raccontate da Fra Paolo Covino, edizioni Padre Pio da Pietrelcina. Lui si chiama Don Massimo Biancalani e in questo libro, edito dalla San Paolo e intitolato Disobbedisco e accolgo, racconta la storia della sua parrocchia, la parrocchia di Vicofaro, in provincia di Pistoia. In questo libro, appunto, Don Massimo racconta l'intensa e forte esperienza sua e anche dei volontari che lo seguono e che lo aiutano, esperienza di accoglienza. Don Massimo è stato uno dei primi sacerdoti ad accogliere l'appello di Papa Francesco ad aprire le porte ai nostri fratelli migranti e l'ha fatto in modo davvero radicale, perché la sua è una chiesa dalle porte spalancate, una comunità dove tanti migranti trovano ricovero, sostegno e assistenza. La scelta di questo sacerdote e del suo gruppo è una scelta, anche un cammino per arrivare all'accoglienza davvero lastricato da difficoltà, impedimenti burocratici, ma anche insulti e minacce, perché è una scelta che è stata messa in discussione da una parte della chiesa e non è stata compresa anche da molti suoi parrocchiani che hanno deciso di allontanarsi, di lasciare la parrocchia silenziosamente. Però, nonostante tutto e nonostante tutti, l'esperienza di accoglienza dei migranti di Don Massimo non si è mai fermata. E a questo proposito, ricordando appunto che nel 1915 ha trasformato la sua chiesa, appunto la chiesa di Vicofaro, in provincia di Pistoia, in un ospedale, un vero e proprio ospedale da campo e attualmente il centro di accoglienza da lui attivato ospita 200 persone. In questo libro racconta l'esperienza e tra i tanti volontari che aiutano Don Massimo c'è anche una volontaria speciale. Lei si chiama Lidia Gori, ha 78 anni, come racconta in questo libro Don Massimo, una volontaria oltre la fede, perché Lidia dice di essere anziana, ma controbatte Don Massimo, io non ho mai visto tanta vitalità e tanto spirito di iniziative in una persona neanche la più giovane. È una parrocchiana che appena ha sentito che stavamo cominciando un'esperienza di accoglienza, si è fatta avanti. Per lei è stata un motore la frase che dico sempre alla fine della messa. La messa non è finita, ma continua nella nostra vita di tutti i giorni, che sostituisce la classica frase, la messa è finita, andate in pace. Insegnante in pensione da molti anni, ha sempre insegnato alla scuola media di Bottegone, una frazione di Pistoia, dove c'erano tanti vivai e che ha visto negli anni 90 la prima immigrazione albanese in Italia. Ha svolto volontariato con i tossicodipendenti, ha cercato di recuperare gli anni scolastici perduti, ma non aveva mai avuto un'esperienza come quella di Vico Faro. Eppure non ha avuto dubbi. Il 6 giugno 2016, si ricorda perfettamente la data, ha detto semplicemente io vengo e si è messa a disposizione. Questa dunque è la storia di una volontaria, di una donna di 78 anni che ha deciso con le sue attitudini, con il suo sapersi mettere in gioco, appunto a 78 anni, un'età non facile, perché magari c'è qualche acciacco, ha deciso di mettersi in gioco e di aiutare Don Massimo Biancalani in questa esperienza, quella appunto dell'accoglienza. Il libro si intitola Disobbedisco e accolgo, ero straniero e mi avete accolto, Gesù come dice in Matteo capitolo 25, versetto 35, il libro edito da San Paolo e la prefazione è di Diego Bianchi. Lui è un monaco benedettino, consigliere spirituale, autore di tantissimi libri. Mi piace immaginare Ansel Grün che settimanalmente, se non mensilmente, decide di dare alle stampe, contatta alla sua casa editrice e dà alle stampe un libro. Questo si intitola Piccoli rituali per la vita quotidiana, edizioni messaggero di Padova. Nella tradizione spirituale, leggiamo in quarta di copertina, ogni giorno della settimana ha una caratteristica particolare. Il punto di riferimento sono i sette giorni della creazione, ognuno dei quali ricorda il compiersi dell'opera mirabile di Dio. Ansel Grün, attento conoscitore dell'animo umano, declina per noi 14 rituali da compiere in due settimane. Sono un invito ad accogliere ogni giorno nella sua unicità e a viverlo in modo che diventi un giorno benedetto. Leggiamo questo. Partiamo dal rituale del lunedì, perché sappiamo che il lunedì è un po' quella giornata scomoda, perché viene dopo la domenica, perché sappiamo che inizia una nuova settimana, due responsabilità, nuove difficoltà, soprattutto in questo momento storico che stiamo vivendo. Leggiamo cosa scrive Ansel Grün. Al lunedì incomincia la settimana lavorativa. Molti vivono il lunedì come un giorno piuttosto triste. È il giorno in cui, dopo la pausa del fine settimana, ricomincia la routine del lavoro e si ripiomba nuovamente nel solito tran tran quotidiano. Ma in questo giorno d'inizio settimana, un buon rituale sarebbe quello di meditare sulla propria nascita. Questo è il consiglio per il lunedì, poi ci sono anche appunto quelli per gli altri giorni della settimana. 14 giorni, un consiglio al giorno, firmato da Ansel Grün. Piccoli rituali per la vita quotidiana, edizioni Messaggero Padova. Vogliamo concludere questa puntata. Ormai è diventata davvero una tradizione e spero di non stancarvi, di non annoiarvi, però è davvero bello chiudere con una storia. Le storie sono quelle firmate da Bruno Ferrero. Il libro fa parte della collana, oserei dire infinita, di piccole storie per l'anima, edite dalla LDC. Questo libro ci riporta anche un po' a questo periodo dell'anno che stiamo vivendo, con una foglia autunnale, l'ultima foglia. Però sono storie che vanno davvero bene in ogni periodo dell'anno, storie per ogni stagione. Abbiamo parlato del lunedì con Ansel Grün, allora chiudiamo con una giornata ecco dolce, piacevole, che è la domenica, la domenica mattina. La storia è questa. Il signor Cesare era molto abitudinario. Ogni domenica mattina si alzava tardi, girellava per casa in pigiama e le undici si radeva la barba, lasciando aperta la porta del bagno. Quello era il momento atteso da Francesco, suo figlio, che aveva solo sei anni, ma già mostrava molta inclinazione per la medicina e chirurgia. Francesco andava a prendere il pacchetto del cotone idrofilo, la bottiglietta dell'alcol, la busta dei cerotti, entrava in bagno e si sedeva sullo sgabbello ad aspettare. Che c'è? domandava il signor Cesare, insaporandosi la faccia. Gli altri giorni della settimana si radeva col rasoio elettrico, ma la domenica usava ancora, come una volta, sapone e lamette. Che c'è? Francesco si torceva sul seggiolino, serio serio, senza rispondere. Dunque? Beh, diceva Francesco, può darsi che ti tagli e io ti farò la medicazione. Già, diceva il signor Cesare, ma non tagliarti apposta come domenica scorsa, diceva Francesco severamente, altrimenti non vale. Sicuro, diceva il signor Cesare, ma a tagliarsi senza farlo apposta non ci riusciva. Tentava di sbagliare senza volerlo, ma è difficile, quasi impossibile. Faceva di tutto per essere disattento, ma non poteva. Finalmente qui o là il taglietto arrivava e Francesco poteva entrare in azione. Asciugava la stilla di sangue, disinfettava, attaccava il cerotto. Così ogni domenica il signor Cesare regalava una stilla di sangue a suo figlio e Francesco era sempre più convinto di avere un padre distratto. Questa storia non è di Bruno Ferrero, che però la raccoglie in questo libro e poi ci aggiunge una sua riflessione, ma è firmata da un grande scrittore, da un grande inventore di storie per ragazzi, Gianni Rodari. Con questa storia chiudiamo il nostro appuntamento di questa settimana. Grazie per averci seguito, per vedere questa puntata e anche le altre vi rimando al nostro canale YouTube Padre Pio TV. Grazie a tutti per l'attenzione alla prossima settimana.